buongiorno e buonasera ragazze e ragazze io sono tinto 93 e oggi giocheremo alla tinto craft oddio ragazzi oddio mio mi è sparito tutto dall'inventario oddio come è possibile nelle ceste c'è qualcosa sì come ho fatto a sparirmi tutto nell'inventario quando c'è la c'era qualcosa qua c'erano i diamanti credo i diamanti che mi avanzavano che è successo non ho più nulla facciamoci le cose in ferro cosa può essere successo è successo ma scompasso tutto dall'inventario è un bug credo che è un bug io non tengo niente però come faccio ho bisogno di legno per farmi come si chiamano gli stick quei bastoni c'ero un'ascia no non ce l'ho un'ascia che è successo non ho non ho più cibo nemmeno come credo che sia io mi ricordo che un giorno nella serie di lion con uno youtuber è successa la stessa cosa soltanto che lei non sono rimaste nemmeno le casse a me a me sì almeno le casse mi sono rimaste almeno tengo 35 di ferro come può essere stato possibile io credo che nel mio mondo ho invitato un mio amico di minecraft sì in questo mondo tengo un amico e l'ho invitato non è che è stato lui a rubarmi diamanti perché io quando finisco il video metto sempre tutto nelle casse tutta la mia roba nelle casse non è che l'ha presa tutta lui non lo so secondo me è stato lui perché in questo mondo non può arrivare nessun altro oltre a un mio amico che si chiama non so come si chiama ferrari 280 si chiama così credo mi ha preso tutto ma questo è il mio cane no mi ha preso tutto credo oddio non tengo più niente almeno tengo il carbone e le altre cose le matete prime ecco ci dobbiamo rifare tutto madonna però prendiamo facciamoci le cose in ferro prima di tutto oddio mi manca una parte del coso i pantaloni come si chiamano i come si chiamano ecco come si chiamano i piedini ecco mo mi è venuto in mente per fortuna che tengo la mia coltivazione di grano se no adesso sarei rimasto senza cibo e niente e per fortuna che la metto sempre da parte delle bacche dolci accogliamo tutto quello no perché sta crescendo qua non c'è nessun semino non ci posso credere che mi sono sparite tutti i diamanti avevo fatto il piccone di diamante ma pure il portale è sparito no il portale sta al posto suo ripiantiamo tutto poi casomai andrò a cercare qualche zucca ce l'ho già credo di sì ma non lo so se tengo la zucca che la piantiamo pure quella per ora io pianto solamente questa la zappa non tengo la zappa beh intanto andiamo a dormire ma com'è potuto succedere io non capisco questo no 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 un creeper un creeper un creeper no 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 no! va via va via 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 ci muoio ci muoio ecco l'ho ammazzato per fortuna devo farmi la zappa come che mi stanno succedendo ecco oggi c'è metto lo scuto che non si sa mai non le posso prendere vaffanculo e no oggi è la giornata di di disastri poi io credo che avevo anche un arco se non mi sbaglio io avevo un arco e mi è sparito pure quello devo andarmi a fare la zappa e poi devo ritornare la oddio mi sono rifatto una zappa in pietra adesso velocemente corriamo prima che ci veda il creeper ecco adesso dobbiamo mettere tutto qua vediamo se l'avevamo già messo poco devo stare attento se no vai io credo che la texture dei cartelli non sia cambiata perché legno l'hanno cambiato nella 1.13 nella 1.13 tutto legno l'hanno fatto diventare in questo modo strambo il legno così io a me piaceva più legno della 1.12 di minecraft questo qua è più brutto prendiamoci pure queste bacchie che non me ne importa tanto non mi fanno nemmeno un cuore di danno andiamo andiamo a craftarci il pane andiamo a trovare del ferro per gli stivali io taglio ragazzi poi vado a cercare qualche diamante ma ci metterò un bel po' tanto per voi saranno 4 secondi perché tanto taglio e ragazzi ho trovato del ferro e del diamante ho fatto tantissima strada per prenderle mi sono ne ho trovato abbastanza per farmi un elmetto diamante anche uno stile dei piedi diamante anche un piccone e una spada ne me ne avanzano 13 io non so come sa farmene di 13 diamanti però mettiamoli qua poi nel prossimo episodio andremo a vedere qualche tipo d'angeon dove troviamo una targhetta nome perché voglio dare un nome al mio cane lo voglio chiamare zillo zizi zizi come quello di piggy zizi ah doggy doggy come quello di piggy perché perché non lo sapesse piggy è una mappa di roblox tipo di peppa pig però che ti vuole ammazzare ecco adesso dove ho messo più concime l'ho messo più e ho messo più concime tipo qua oppure con i quadretici diamanti ci potremo fare pure dei gambali sarebbe una buona idea dei gambali in diamante oppure un corsale no oppure come no quello cosa in diamante il coso qua il corsa il corsaletto di ferro il corsaletto quel corsaletto la costa troppi diamanti mi sono fatto questo invece adesso sono ben protetto poi tra poco sarò completamente in diamante oggi volevo andare nel nether di nuovo ad esplorare un pochetto l'ascia non me la torno fatta in diamante perché che cavolo mi serve l'ascia in diamante già c'era un ferro la volevo poi a casa mia volevo fare qualche modifica volevo su quelle pareti di lei oddio 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 noi siamo mi ricordo noi siamo spawnati nel nether proprio in questo punto senza guardare gli endermen uh il germogli del nether prendiamolo prendiamo pure quella luminite del nether si prende con l'ascia vediamo se guardo gli endermen per me è finita perché gli endermen sono dei mob fortissimi con questo ci potremmo fare uh questo vino non l'ho mai visto oddio oddio no 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 non ti ho guardato sta calmo che non ti ho guardato bene ragazzi per oggi è tutto tinto vi saluta e ciao ciao